Mori la merda, mori della sapienza, le nostre ricerche, non lo facciamo senza! Sono il CEO di Ani, come vedete Ani è verde, ma forse non so tanto. Questi sono i miei scienziati e i miei lavoratori. Perché hanno la bocca chiusa? Perché devono dire quello che vogliamo noi. Cioè che noi non inquiniamo, siamo un'azienda verde e stiamo facendo del bene al pianeta che tanto amiamo. In realtà facciamo finta di essere verdi quando inquiniamo il pianeta, quando uccidiamo persone, quando rubiamo la terra a chi ci abita, facendo accordi economici e politici che per loro sono dei ricatti. Il Greenwashing non lo tolleriamo, l'ambientalismo è nostro e non lo deleghiamo! Il Greenwashing non lo tolleriamo, l'ambientalismo è nostro e non lo deleghiamo! Ci serve fare ricerca, una ricerca per utilità pubblica, per utilità sociale, per il bene comune, per la collettività, da mettere a disposizione di tutta la cittadinanza, affinché tutta la cittadinanza collettivamente prenda posizione e decida che fare del proprio futuro. Il Greenwashing non lo tolleriamo, non lo tolleriamo, non lo tolleriamo, non lo tolleriamo! Grazie!